Il cammino dall'albaio per tutto il campo, ok? Ogni volta che vedete uno di loro il sito che vi piace, deve avvicinare l'albaio, ok? Così, già avete un esempio, avete le mani in grado di dire che la regia è benedetta. Vi diamo un grandissimo applauso per tutti i costi che vi hanno felicitato e soprattutto l'alberto di ringraziamento particolare a Doriana e a Sinca che hanno scoperto il vero che ci sono i miei bambini. Grazie mille. Quindi, voi non lo sapete o non siete ancora conosci? Il venerdì sera, insomma, venite a vedere la partita degli anni, giusto? Oggi, siccome è la vostra festa, sono venuti loro per andare a vedere come giocare. Sono tutti gatti e tutti noi. Facciamo un applauso ai giocatori che potete vedere la sua scuola. Non ho perduto neanche.